Buongiorno, sono Teresa Mere Caputo del TCLT 4 Globe Flash News. Passiamo ora alle notizie. Iesolo, un nuovo bosco con 4.000 piante tra Lido e Paese. L'amministrazione comunale ha approvato ieri, nel corso della seduta di giunta, il progetto di fattibilità per la realizzazione di un nuovo bosco urbano in città. L'iniziativa rientra tra le proposte avanzate dall'autorità urbana, Basso Piave, SISUS, di cui fa parte il Comune di Iesolo e selezionate dalla Regione Veneto nell'ambito del nuovo programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESP 2021-2027. L'approvazione del progetto di fattibilità era uno strip imprescindibile per avanzare l'istanza che consente di intercettare le risorse. L'area verde, il progetto prevede la piantumazione di quasi 4.000 piante tra alberi e arbusti all'interno della grande area verde, esistente in prossimità di Via Rusti, Via Pirandello e Via Selghiera. L'intervento principale consiste nella piantumazione di 3.834 piante, tra cui querce, frassini, aceri, betulle, pioppi, ontani e altre specie. Il progetto prevede inoltre l'installazione di 4 bacche con descrizione dell'iniziativa posta ai 4 ingressi dell'area verde. L'importo totale del progetto ammonta a 500.000 euro, spese che sarà sostenuta per circa 450.000 euro, con risorse del FESP. Perciò che riguarda le tempistiche, l'esecuzione dei lavori prevederà avvio della seconda metà dell'anno nuovo e durerà un paio di mesi. Crediamo molto in questo progetto ed è la ragione per la quale, attraverso il lavoro degli uffici, abbiamo investito tempo ed energia per sviluppare una proposta ben strutturata, rispettando i tempi richiesti nella presentazione dell'istanza, commenta il sindaco di Iesolo, Christopher De Zotti. I benefici per la città sono numerosi ed evidenti, a partire dalle importanti conseguenze positive dal punto di vista ambientale e naturale, ma poi anche per la bellezza rappresentata dalla presenza di un'ampia area alberata, in una zona della città che sta accogliendo sempre più residenti. La forestazione urbana è uno degli obiettivi di mandato, di cui stiamo andando concretamente per il futuro. Abbiamo già nuove idee, come anche per intercettare ulteriori stanziamenti sovracomunali. Caorle, dal 28 al 31 gennaio 2024, la 50esima fiera dell'Alto Adriatico, ecco i riconoscimenti che saranno attribuiti ai giovani. Ancora più concorrenti, ancora più momenti per crescere in un confronto che aiuta a maturare, facendo esperienze grazie alla presentazione di professionisti. La fiera dell'Alto Adriatico, numero 53, che si terrà a Pala Expo Mar di Caorle dal 28 al 31 gennaio 2024, grazie all'organizzazione di Venezia Expo Mar Caorle, associazione jesulana, albergatori e di comuni di Caorle e Jesolo, è ormai giunta al dettaglio delle numerose iniziative inserite nel programma. E tra queste ci sono vari concorsi rivolti soprattutto ai ragazzi, ovvero ai professionisti di domani, che comunque stanno iniziando ad affacciarsi al mondo del lavoro. Premio Callegaro Martedì 30 gennaio, ore 10, si terrà la seconda edizione del premio Massimiliano Callegaro Flauma 1 Schacher, si tratta di una manifestazione voluta e organizzata da Amira, associazione maitre italiana, ristoranti e alberghi Venezia, è dedicato a Massimiliano Callegaro, persona che ha sempre chieduto nei giovani dedicandosi molto alla loro crescita e formazione. Residente a Marghera, di professione chef maitre, sala e cucina, è venuto a mancare a settembre nel 2020 all'età di 75 anni, lasciando in eredità il lavoro svolto per le nuove generazioni. Al concorso vi partecipano gli studenti di alcuni istituti alberghieri del Veneto. Migliore allievo di pasticceria Sempre martedì 30, alle ore 10, si svolgerà il primo trofeo regionale. Migliore allievo di pasticceria istituti alberghieri 2024, competizione dedicata all'arte della pasticceria rivolta agli allievi di istituti alberghieri e scuole di ristorazione del Veneto e organizzata dall'Unione Cuochi del Veneto, FIC, dal Dipartimento Giovani FIC del Veneto e dall'azienda settoriale ICEUR di coordinamento. Migliore lady chef Veneto A proposito di concorsi in fiera, come non ricordare la finale regionale, migliore professionista lady chef che nel Veneto del 2024 competizione culinaria di cucina calda riservata alle lady chef professioniste regionali. La prima classificata si aggiudicherà il titolo regionale e anche il diritto di rappresentare il Veneto all'ottava edizione dei campionati della cucina italiana 2024 alla fiera di Rimini. Inoltre il concorso di Caorle è valido per il trofeo Cirio per la migliore professionista lady chef nazionale e insolito per il 2024. È importante coinvolgere i ragazzi, dare loro delle opportunità professionali ma soprattutto appassionarli emotivamente in un ambiente così affascinante e faticoso come quello del mondo del turismo, commenta il presidente di Venezia, Expo Macaorle, Raffaele Furlanis. Questi concorsi unitamente alle altre iniziative create in fiera rappresentano delle importanti opportunità che vanno in quella direzione. Concludendo questo CG io vi saluto a voi telespettatori e vi aspetto alle prossime notizie.